Dal comune di Reggello a quello di Cortona, i vandali nelle ultime ore in Toscana hanno preso di mira i cimiteri. In questo caso hanno proprio profanato una tomba nel cimitero di Gabbiano, comune di Cortona. Negli altri casi invece sono state danneggiate decine di tombe. Nel comune di Reggello è stato preso di mira il cimitero di Borgo a Cascia, dove sono state devastate alcune tombe. Un atto inqualificabile e vergognoso, afferma il sindaco Piero Giunti, che va a ledere i sentimenti delle famiglie e di coloro che hanno un proprio caro nel cimitero e che adesso è al vaglio dei carabinieri. Due cimiteri presi di mira invece nel comune di Cortona, a Montecchio del Loto e a Gabbiano. Qui è stata profanata una tomba. Ma non c'è spiegazione se non condannare questo gesto vile e infame. Stiamo lavorando insieme alla Polizia Municipale. Chiaramente ci sono anche i carabinieri che stanno indagando. Noi abbiamo fatto il nostro dovere da pubblici ufficiali, da amministratori. La condanna è unanime, non si può tollerare più questi gesti. Prima devastazione di tombe in un cimitero, poi in un altro. Fra sabato e domenica sono circa 10 le tombe che hanno avuto atti vandalici. Quindi diciamo che abbiamo attenzionato al massimo livello la situazione e speriamo di trovare i responsabili al più presto e che paghino per quello che hanno fatto. Non è l'unico fatto che è accaduto a Cortona. Alcuni mesi fa era stato preso di mira il cimitero di Monsignolo. Francamente per quanto mi riguarda a me non piace. È una situazione molto delicata. In questo momento preferisco non aggiungere altro, ma tuttavia stiamo attenzionando la situazione con tutti i mezzi possibili e immaginabili.